Oltre 26 milioni di euro sono stati sbloccati dalla regione Abruzzo in questi giorni per quanto riguarda il Master Plan Patto per il Sud. I fondi destinati all'area della provincia di Pescara serviranno a migliorare le opere come viabilità. Esempi sono le alterie che collegano il Gran Sasso alla provincia di Pescara, zona Rigopiano fino a Penne, il turismo religioso con la strada per il Volto Santo di Manopello, Maielletta, strada Pianella Cipagatti-Rosciano e la riqualificazione del Parco del Lavino. I depuratori di Mamma Rosa, tra questi ci sono anche i fondi per lo sfalcio delle erbe. Certo, una bellissima notizia. Questa è l'operatività della regione oggi perché nello sbloccare i fondi poi riusciremo a concretizzare sui territori quando di buono. Il PD rivendica questi fondi e fa anche bene perché questi fondi sono stati trasferiti da loro alla provincia di Pescara. Però evidenzia soprattutto l'incapacità amministrativa. Dal 2017 questi fondi sono a disposizione, tra virgolette a disposizione, le convenzioni erano a disposizione della provincia di Pescara ma per via di una convenzione o delle convenzioni capestre non si potevano utilizzare, progettare e concretizzare sui territori. Quindi c'è stato un dannoso ritardo e anche un aggravarsi della situazione viaria. Oggi ovviamente non manutentando la situazione si è aggravata però cercheremo di recuperare il più possibile e dare risposte concrete ai territori. concrete ai territori.